Benvenuti in questo nuovo video Benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi giochiamo a Fall Guys Nello specifico Oggi litighiamo Perché facciamo la maletta squadra E che sapete come funziona? In base al posizionamento di ognuno di noi Siamo in classifica Se la posizione totale è buona Andiamo avanti E quindi continuiamo ad andare round dopo round Fino alla finale Se invece la posizione di qualcuno di noi è troppo negativa Allora non andiamo avanti E quindi potremmo insultare bene Cioè potrebbe succedere questa cosa Quindi preparatevi agli insulti L'obiettivo ovviamente è come squadra Arrivare alla finale Dopo che cercare di vincere la finale Uno di noi quattro Però ho un brutto presentimento Sono un panda rosso piccolo PS È bellissimo Io amo i panda rossi Allora mi potete dire Chi volete tra Steph e Steph Bambù Fere, Fere Diamante, Nino, Leo o Camilla Secondo me è Fere Diamante oggi Io voglio Leo Fere Diamante Fere Diamante sta in quello rosa Non mi ricordo più Fere Diamante sta in quello rosa No, in quello celeste In quello celeste Ok Fere Diamante Vediamo La troverò Può essere Leo Ho trovato Leo Mi dispiace E mi sa che non ho altri celesti Quindi non posso più Questa roba Se volete trovare al posto di Mark Fere Diamante Li potete comprare in edicola I nostri squishy sono super carini Sono bellissimi E per fortuna non c'è quello di Mark Quindi non possono capitare solo quelli belli C'è l'edizione limitata Uno su un milione di scatoline C'è quello di Mark L'edizione speciale Pagliaccio Sì, sì Nessuno l'ha ancora trovato Però c'è Ok, ho capito Bellissimo Pagliaccio Io lo so che i commenti che mi hanno scritto Meno male che in questa collezione Non c'è il truffatore No, no, no No Me l'ho detto, te lo giuro Poi sarà stato un commento Guarda, guarda, guarda Allora, vedete che abbiamo lì con Cina della squadra? Sì, purtroppo No, no, io non la vedo Ok, perfetto Non la vedo Quindi andiamo Qua piano, là Che ve lo ricordo Ma dove piano? Ma come? Non bisogna capire dove bisogna andare No, no, qua si tira dritti Dritti, eh? La faccia sulla porta Quelli di Stumble Guys Che nervoso Aia Aia, mi sono preso Un partito malissimo Raga, sono ultimo Quella centrale Quella centrale Yes Io sono tra i primi Ok, per e la vedo Ragazzi, io sono ultimo Ve lo dico Vi prego, ragazzi Eh, ragazzi C'è un boccio Vi scongiuro Non voglio venire squalificato al primo round No, raga, non ce la faccio No No, proprio Stai, io sono praticamente Praticamente Prima arrivi Meglio è per tutti noi Ok Vado Sono tra i primissimi C'è una rissa qui Ok, io ce l'ho fatta Sì 53 punti mi ha dato Allora, 29 punti Sono 16 18 Ce l'avete fatta? Sì, sì Ok, allora ci siamo come squadra Io ho fatto 53 punti Vi sto carriando Mamma, raga Brava No, via ragazzi No, diciamo che sto accumulando per i round in cui perderò Questo Non c'è da accumulare o portarmi a matti con i punti Ok, ok, ok E questo è l'ultimo vivo? Sì È finita? Ok Allora Dovremmo essere Ok, qualificazione raggiunta Ok Perché è una questione di punti di squadra Eh sì, ci sta Non è che Possiamo dire che ci volete far perdere No, no, no Io sono scarsissimo, ragazzi No, io ho fatto il mio meglio, Steph Guarda Sono proprio forte 11 squadre qualificate Ok Dove sono tutte squadre da 4 11 per 4 fa 44 44 No, va bene 44, ragazzi 1 per 6 con il resto di 2, giusto? E sì, vi fate 44 Sapete già che la finale sarà da 8 Ok Forte No, ma mi è emozionato No, ragazzi Non so che cos'è Non l'ho mai fatto Che cacchia è sta roba, ragazzi Non è possibile Dovete saltare Dove ci sono quelle zone blu Dove ci sono quelle zone blu C'è la gravità quella easy Ah, ok Quindi fai più Capito? Va bene, va bene È abbastanza easy Dove c'è la roba Eh, c'è gravità Dove non c'è Eh, non c'è È molto cyberpunk questa cosa Si regge, dai Ok Si regge Sì, si regge Quanto è lunga, raga Qui fate il tuffo Praticamente poi riarrivate Ok Eh, mannaggia, paperino Mannaggia a me e paperino Ma che io sono niente, ragazzi Sono vivo Ok, sono tutto vivo, raga No, 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 sono morta di fronte al check Poi tu stai, io non ce la faccio Fere, ti prego Eh, non capisco come si fa Ti scongiuro, Fere Hai la responsabilità di una squadra intera Ma non arriva la frutta in faccia Fere, non mi interessa della frutta No, Fere, sarò ultima Fere, ti prego, concentrati No, ancora No, deficienti No, ragazzi Di nuovo anche a me, non ci posso credere Ma cattiveria gratuita Io sono al primo livello No, vabbè È finita Non ci riesco È finita, signori Io lo sapevo Che la squadra era il mio punto debole No Ok, ok Sto andando avanti però Tanto stanno andando avanti Ma una è già finita Ma che Ma stanno andando tutti malissimo Guarda Raga, io ci sono quasi, eh Mi si deve aprire sta porta però Come si apre? Che devo fare? Qui io sto correndo ma non capisco nulla Sono arrivato terzo Eh, non va 38 punti per voi Ma campione, non si apre Siamo chiusi Ma salta destra Fere Brava Rivai, rivai Aiuto Ma come faccio? Dovete premere i bottoni voi No, lasciatevi in pace, ragazzi Ma perché non avete mai giocato C'è 100 anni sta mappa Io non gioco a Polgat Sto mi rogge Questo è il pezzo peggiore, Fere Sto arrivato, ragazzi Bravo, campione Fere non qualificato Non riesco ad alzarmi Non riesco ad alzarmi Niente, marci Siamo fuori No, non ci credo No, siamo lì Ma ero lì Alla fine ce l'avevo fatta No, siamo fuori Io ce l'avevo fatta, Stef No, no, che è un piano Mi capitano le mappe che non conosco Sette su quelle rimanenti Siamo arrivati Ottavia Questa è la cattiva No, no, tranquilli Io non vi sto odiando Andiamo, ora iniziamo Non sapevo Una cosa vi devo dire Con calma Dove ragioniamo Ragioniamo Se state sopra è meglio Ma anche giù si va Ma sopra dove? Ma tu le conosci tutte le mappe Sì, mamma, ragazzi Comunque Io ho giocato il torneo internazionale Con questa mappa Che c'è tutto il tempo E sono arrivato Sesto mi pare Wow Sì, sei un campione E sei ancora vivo per raccontarlo, Stef Hai visto? Ma mi hanno buttato giù, ragazzi Però la mappa è un po' diversa Da quella che ricordavo No, raga Raga, io sono all'inizio Mi continuano a beccare E sono caduto Ti prego Io sto andando In qualche modo Brava, Pere Insegna gli angeli a volare, Pere Ma c'è il vento, raga Arriva, ma ha preso un rinocerote in faccia Ma ce la sto facendo Ah, uno è già arrivato C'aveva il motorino acceso sto qua No, non hai capito Stef, io non ce la faccio No, no, ma ci devi Ok, sono dietro di Mark Sono arrivato terzo 51 punti per la squadra Ci sono 49 punti Pere ha fatto un sacco di punti Oh, ragazzi Arrivo Vai, campione Sono alla scivolata qua Vai, nello scivolo, vai, nello scivolo Va bene Non mi scivolo il player, ok No, campione Ok, tranquillo Vai, lascio il scivolo Raga, l'ho fatto Ok Che l'ho fatta 24 punti Ok, ci siamo, ci siamo Mamma mia Terzi, raga Terzi, buono, buono La squadra è terza Sì, siamo terzi Perché stavano carriato, Marco No, non è vero Tu non sto qua col rinocerante Non ci credo Col rinocerante che finisci su È proprio una fortuna incredibile Eh, ne sa, eh Ok, comunque il primo round è andato È andata Gira che ti gira Mi raccomando Questa la conoscete Io non c'ho presente La conoscete Ma no, ragazzi Ma dov'è che gira? Io non l'ho mai fatto Ah, no, no, in realtà non è tra È vecchia Non è È abbastanza nuova È vecchia ma è abbastanza nuova È della season medievale questa, mi pare Ma cos'è Io non ho fatto la season medievale È la season medievale, ragazzi Ah, ma c'è la season Vabbè, comunque Sta roba gira Voi saltate Vi muovete Dai, non è che sia una scienza Arrangiatevi, insomma Eh, mi è impressionato questo racconto Sono caduto Questa è la fine, raga Due palloncini Ma eccomi qui Dai, campione, andiamo Ok, sto andando Sto andando In qualche modo Mi senti, Stef? Ok, lo sento, lo sento Li vedo pure Li sto visualizzando I tuoi palloncini, campione No, raga, sono caduto Mi vedi, Stef? Dietro di te, guardami, eh Occhio, occhio, campione Occhio, un pagliazzo Se cadete, è iniziato da zero, eh Quasi da zero Sto andando bene, credo Sto andando bene, ragazza No! No, ragazzi Ma tu Eh, raga Morite per colpa mia Ragazzi, sono arrivato Porca miseria Le va Perché la gente È mentecata Ma io sono veramente scarso 29 punti per salvare il team, ragazzi Di un punto stand dentro Mi rimangono tutti appiccicati alle scatole Io non ce la faccio, raga Di un punto stand dentro, grazie a DeMarca Di un punto, ragazzi Dai Due Uno Siamo salvi? Sì! Siamo salvi? Prego, amici Prego Prego Con nessuno che è arrivato Cioè è arrivato solo Marco Posso dire che mi ha fatto totalmente cagare E la migliore è veramente No, anch'io Anch'io Cioè, ma proprio Veramente Ma che vergogna Ma ti rendi conto che noi siamo salvi per DeMarca Ragazzi Sì Questa è la seconda vergogna Mi ha messo sulla spalla E vi fa Vamo, raga Vamo Praticamente dobbiamo passare Al centro di questi cerchi Ci sono delle strutture a terra Che voi potete muovere Per andare nei cerchi Quelli dorati valgono più punti Ah, ok Questo lo ricordo Me lo ricordo Ok Se vi faccio tre punti è molto Se lo prende uno Il cerchio scompare Quindi è proprio una questione Di puntare quelli giusti Ok Mi raccomando Ne ho fatto uno Vai, bravo, Steph Ne ho fatto un altro Cavolo, me l'hanno rubato davanti agli occhi uno No, quello d'oro Ah Vai tranquillo, Fere Fere, è la somma del team Non sei a zero Ah, lo so, però È difficile C'è quello d'oro C'è quello d'oro Dov'è? Qui, 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 qui No Preso uno Non me lo dà Ragazzi, qua c'è una lista Per prendere quello da cinque C'è quello dorato, ragazzi No Chef, c'eri, c'eri Eh, ormai non ce la faccio più Eh, l'hanno preso Mannaggia Abbiamo preso No, ha finito No, dai Facciamo schifo come squadra Vabbè, raga, però c'è una al 24, cavolo, eh Eh, lo so, capiamo, però Vabbè, devo dire, raga Io, una volta, mi vorrei criticare, ma ho fatto schifo Ma come stavolta di Mark, raga Ma è stato schifo tutti assieme È quel po' di di Mark, raga Usciamo L'ultima partita Almeno una finale, vi prego È la nostra partita Dai Mi raccomando Tra l'altro Mappa che conoscete Su Dovete carriermi, raga Siamo Andiamo Andiamo, 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 andiamo Allora Scriviamo Andiamo Mi sono andato con il panda rosso Me la rischio Lo fa, eccolo Eccomi Allora Non ho mai visto questa versione Ok Cosa è sta roba? Che cavolo è, ragazzi? Spam rimbalza Sì Però se mi riverso sinistra non cadi Sì, sì, non cadi, non cadi Mi sembra tutto sommato easy Ok Fatto Fatto, sono secondo Bravissimo Vai, giovane Ok Ho questo checkpoint La roba che rimbalza è fastidio Mi vedo Mamma mia, ragazzi Non cadere Ok, sto andando Opla Al po' Eccolo Eccolo No Mi hanno rubato il primo posto 51 punti per la squadra Eccomi La palla che mi ha preso in pieno Proprio Racconta la mia vita 30 Va bene, va bene 30, 30 Vai, Ferre, con calma Con calma Con calma Stai tranquilla Ferre, palloncini Palloncini Ferre ne sta, ragazzi Li sta compiando tutti, Ferre Vai con i palloncini Ok Sei punti Brava, Ferre Mi hai portato a casa i sei punti Mamma mia Meno male Allora, registrare questo video dopo Stumble Guys è ancora più complicato È vero, è vero Non ce la faccio Non ce la faccio È vero, è vero Hai ragione Mamma mia Tieni un nino Quanta L'ha preso? L'ho mancato No, come l'ha mancato? No Ok, Leo l'ha preso Eh, Leo ci sta Suoga, Ferre Suoga tutta la rabbia No, eh Non riesco a trovarmi su PoliGuy Tra un round e l'altro Non riesci a trovarti su PoliGuy No, no, ragazzi Non d'accordo con Ferre Povere, povera stagia Oh, santo c'è Che cavolo è È la passeggiata festosa È una passeggiata festosa, ragazzi Oh, comunque le sa tutte, Stef Tutte e tutte le sa Però è forte Ferre l'ha giocata in live questa No, non l'ha giocata È solo che c'è la memoria più corta di un criceto No, questo non lo Eh, sai perché si somigliano Quindi ti stai confondendo tu Non è questo No, Ferre, è quella dei tubi Stai insultando i criceti per caso Ma non era questa quella dei tubi Era molto diversa, no? Sono due È vero, in effetti Questa è quella che non ho giocato Eh, certo È comoda la tua vita Ora dovete andare all'imbuto al centro Forte È stato in quella di Ertelaga Ora sono delle sorte di trattolini Avete visto? Ora che arrivano le pallonate Dove percorrere i criceti e pregare Quella del cannone occhio al centro Dai che si va Dai che si va Ok, no, sono vivo Si scende giù Siamo tutti vicini, raga Io vado alla sinistra Piuttosto che arrampicarmi No, anch'io non mi arrampico Perché non gira però? Non lo so Ma che schifo No, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta E sono passata, ragazzi Di qua, pare bagnato di qua Pane bagnato Ma con chi sta parlando? C'è un tizio che si chiama pane bagnato Che mi ha bloccato Ok È pazzito Ragazzi stiamo andando malissimo di nuovo No, io sono andato male Eh, ma siete arrivati Ragazzi sono arrivati già tutti Io sono andato bene Io sono andato benissimo Io sono indietro di voi Perti tre punti Ragazzi sono fuori da fuori Sono arrivata Sono arrivata Sono arrivata 18 punti Ok, brava Sono arrivato Quarti Quarti Quinti Quarti L'abbia salvata Quinti L'abbia salvata Ma perché? È perché in base a quelli che arrivano degli altri team Ora Siamo salvi C'è Ragazzi Non ha mai visto una partita di Fall Guys E fatti cosa Quanto sta in squadra così Mamma mia ragazzi È una tortura È una tortura È una tortura È uno per te, guarda Confermo solo la tortura Mamma mia Sì, anche io sono la tortura 9 squadre rimaste Vuol dire che erano anche 9 per 4 33 Noi eravamo in settimi In tre eravamo 69 69 69 Ho visto Comunque fuori di testa giochere a squadra Adesso Ci giochiamo tutto Ah no Qua No, pensavo fossero altre che mi hanno fatto prima Cos'è accumulatori Ragazzi è quella di tenere le palle Nelle zone delle palle Ah, le palle quindi Ok Avete presente? Sì A me questo gioco le palle le fa solo cadere Ah Allora Ascoltatemi Non tengo nessuna palla Giochiamola di strategia Ok Secondo me Due in attacco Due in difesa Abbiamo un giallo Che l'ha buttato nei blu Dai Ma come si fa? No, anche io ragazzi L'ho fatto Perché mi sono confusa Ok Abbiamo due palle Quattro Bravissimo Meno male Ragazzi Blu ne hanno presi due È un problema Ok I rossi prendono solo una Ok Ragazzi Stiamo a due Portata dal giallo Portata dal giallo Bravi Raga In difesa Non c'è nessuno Sono tutti da noi Ma ve l'ha fatto una vita È perché ce ne abbiamo tutti noi Ho capito Ma porca miseria Dobbiamo portarne uno Non c'è No Sì Dai Dai No Io non l'accetto Avamo primi tutto il tempo Alla fine Dovevamo perdere Ma perché stiamo con dei bot Ma che senso a metterci a squadre Con altre squadre Come squadra abbiamo fallito Me l'aspettavo sinceramente Ma almeno una finale Pensavo che l'avremmo fatta Su tre match Complimenti Grazie I miei più sentiti Grazie Grazie raga Grazie mille Vi odio Con tutto me stesso E il panda rosso Si ferma qua Ciao Ciao Benvenuti con un nuovo video Benvenuti con un video Grazie a tutti